La musica. Nella sua Bologna Luca Carboni ha ripercorso la sua carriera in un concerto intervista, il servizio di Davide Maggiore. La maglia del Bologna, sette giorni su sette. Bologna, la passione per la musica è diventata una carriera, le canzoni dagli esordi a quelle dell'ultimo album. In piazza Viera de Mello Luca Carboni ha chiuso la rassegna Giardini a Cubo e l'estate tra parole e note, ripercorrendo in un concerto intervista 30 anni passati sulle scene. Un racconto per voce e chitarra che è stato anche una riflessione su cosa significhi oggi essere musicista. La musica ha delle parti che non cambiano mai, l'ispirazione, la voglia di raccontare, poi c'è invece anche tanta tecnologia che cambia, che entra dentro le cose, che modifica anche i metodi creativi e quindi cambia sempre, è sempre in evoluzione. Ci stiamo sbagliando ragazzi, noi che camminiamo sul mondo. Sullo sfondo di questo viaggio musicale è sempre Bologna, dove la carriera di Carboni è partita e che per il cantautore resta ancora una fonte di ispirazione. Io sono bolognese, sono cresciuto qua e dentro le mie canzoni, anche quando non voglio raccontare di Bologna, viene fuori comunque la particolarità della bolognesità e lo avvertono, credo, anche fuori da qui. Non nemmeno quelle, quelle più belle.